E nella fattispecie la musica sa esprimere, invio a lei e a tutti i docenti e in particolar modo ai ragazzi coinvolti i miei più cordiali saluti, Renato Schifani. Invitiamo il senatore Pirarello. Eccolo qua, a favore di pubblico con noi. Per consegnare questo encomio così importante promosso direttamente da Renato Schifani. E il primo premio assoluto per questa prima edizione di Maggio in Musica 2011 viene conseguito dalla scuola secondaria di primo grado di Pianca Viglia. E nella fattispecie la dirigente scolastico che leggerirà profondamente la professoressa Graziella Orto. Con complimento a tutti quanti i docenti di strumento, Carmelo Marcello Mamoliti, Salvatore Coniglio, Giovanni Capuccio, Lucio Campalardo e tutti quanti i giovanissimi orchestrati e componenti dell'ensemble Luigi Sturzo. Bene, Daniela ci raggiungerà? Ci raggiungerà dopo il dirigente scolastico? E Daniela fa PR giustamente. Sì, sì. Ti raggiungo. Tutte le volte che mi trovo a contatto con la scuola mi commuogo. Per il lavoro che fate, per l'impegno che viene profuso, per la speranza che create in un mondo che deve crescere, per tutto ciò che riuscite a trasmettere con la gioia di lavorare. Io credo che questo è il sentimento più bello che posso manifestare, anche perché come sindaco io mi dedico tantissimo alla scuola.